Ecco Presidente, a proposito sempre di immigrazione, invece è intervenuto il Tribunale di Udina con questa sentenza per dirvi che non potete andare a chiedere quali altre eventuali proprietà possono avere gli stranieri che chiedono un contributo nel nostro Paese. Se diciamo che i cittadini italiani possono presentare l'autocertificazione, noi come l'autocertificazione possiamo verificarla, perché ovviamente abbiamo gli strumenti per farlo e anche le istituzioni pubbliche possono. Se uno proviene da Paesi stranieri, magari Paesi molto distanti da qui, è presente l'autocertificazione e noi non abbiamo alcuna possibilità di verificare, quindi con questa sentenza di fatto si crea una discriminazione al contrario. Cioè il cittadino italiano se presenta l'autocertificazione sa che è controllabile e quindi deve dichiarare il vero. Se le presenta un cittadino straniero sa che nessuno potrà mai controllare e di fatto vive in territorio franco. Nessuno lo potrà controllare, a me sembra una forte discriminazione, noi abbiamo fatto invece una norma nel quale non potendo fare questi controlli chiedevamo semplicemente al cittadino straniero tramite la sua ambasciata di presentare la documentazione che non possiede alcun tipo di proprietà all'estero, non mi sembra così discriminatorio. Sta di fatto che anche con questa norma le domande ammesse degli stranieri sono crollate, sono crollate e allora adesso mi domando come mai sono crollate. Evidentemente secondo me c'è un problema. Non ha niente da nascondere, faceva questo documento. Fa domanda e tutto, poi dicono non ce la facciamo. Comunque adesso stiamo valutando ovviamente con la nostra vocatura per capire se si può impugnare la sentenza ed altro. Comunque cambieremo nel caso il regolamento mettendo sempre una premialità anche di punteggio per chi era più tempo residente.